Wiko amplia l'offerta con la famiglia VIEW. Tre nuovi smartphone caratterizzati da uno schermo più grande con bordi ridotti in formato 18 noni per una visione più coinvolgente. Scopriamoli insieme. Tre modelli VIEW, VIEW XL e VIEW PRIME. Widescreen da 18 noni con bordi ridotti. Fotocamere performanti e innovative. Compatti e maneggevoli. VIEW, VIEW XL e VIEW PRIME sono caratterizzati da widescreen in formato 18 noni ovvero schermi più grandi e bordi ridotti all'interno di un corpo ergonomico e compatto. Vediamo nel dettaglio i tre modelli. Wiko VIEW è il compagno ideale per guardare film, leggere ebook e divertirsi con i giochi preferiti. Schermo più grande sì ma grazie ai bordi ridotti sarà come avere in tasca uno smartphone da 5,2 pollici. Con Wiko VIEW possiamo inoltre dividere il display e utilizzare la modalità split screen per visualizzare contemporaneamente due applicazioni. Grazie alla fotocamera principale da 13 megapixel immortalare panorami mozzafiato non è mai stato così facile. Ma Wiko non si ferma qui. La fotocamera frontale da 16 megapixel assicura selfie incredibili. Inoltre con la video stabilizzazione puoi registrare filmati in movimento e dire addio ai tremolini. Wiko VIEW XL garantisce la stessa esperienza del VIEW ma in formato extra large con uno schermo ancora più grande da 5,99 pollici con bordi ridotti nel corpo di uno smartphone da 5,5 pollici. Wiko VIEW PRIME è il top di gamma pensato per gli amanti dei selfie. Grazie alla dual selfie camera è possibile scattare foto perfette da godere in un display ampio con bordi ridotti in formato 18,9. Wiko VIEW PRIME vanta infatti una doppia fotocamera frontale da 20 megapixel più 8 megapixel con grand'angolo di 120 gradi che garantisce fantastici selfie di gruppo. Finalmente nessuno rimarrà escluso dalle nostre foto anche se siamo in tanti. Wiko VIEW, VIEW XL e VIEW PRIME sono disponibili nelle colorazioni Deep Blin, Cherry Red, Gold e Black. Wiko VIEW, vedi di più!